Ciao bambini, sono la maestra Anna e oggi voglio insegnarvi a realizzare dei quadretti usando delle cannucce di plastica. Vanno bene cannucce colorate se riuscite a trovarle, ma in caso anche cannucce di un solo colore. Procediamo. Prendo una cannuccia e la taglio. Le cannucce sono tenere, sono facili da tagliare. Ora la taglio ancora cercando di fare due pezzettini della stessa misura. Poi ne prendo un'altra e faccio un terzo pezzettino della stessa misura. Adesso vado a realizzare ad esempio una casetta. Quindi prendo una cannuccia di un altro colore, taglio due pezzettini, sempre più o meno uguali e vado a fare il mio tetto. Ecco qua. E se ho voglia posso pure fare il cammino. Bene bambini, adesso vi faccio vedere che cosa ho realizzato io in questi giorni. Allora, prima ho fatto una cucina con un lampadario, un tavolo, due belle seggioline, poi due lama, uno più grande e uno più piccolo, poi ho fatto una piccola città e per finire un parco giochi. Bambini, provate anche a voi a fare dei quadretti in questo modo, poi fate delle foto e mandatele, così anche noi vedremo i vostri capolavori. Ciao bambini, a presto, ciao!